Arriverà l'università, abbiamo fatto anche ultimamente una conferenza stampa con il responsabile del corso, siamo soddisfatti, adesso stanno facendo degli open day online, quindi benvenga, sono molto contenta. La Regione Marche ha deliberato la possibilità che chi parteciperà a questo corso potrà partecipare a un bando regionale e quindi fare l'università con l'80% gratuitamente. Ci sono dei lavori che inizieranno a breve, tra qualche giorno, quindi io dovrò trasloccare dal mio ufficio ma sono ben contenta di lasciare spazio ai giovani.